Il libro che vi presento è una pietra miliare della letteratura scientifico-naturalistica. Si tratta dell'origine delle specie, il saggio che il naturalista inglese Charles Darwin pubblicò nel 1859 gettando le basi per la formulazione di quella teoria dell'evoluzione che ha rivoluzionato il nostro modo di interpretare fenomeni naturali, con particolare riferimento al modo con cui gli organismi viventi si trasformano nel corso del tempo, cioè si evolvono. Il libro ha una storia singolare legato soprattutto alla sua lunga gestazione. Abbiamo evidenze che i primi abbozzi della teoria erano infatti presenti negli appunti che Darwin ci ha lasciato dai primi anni 40 dell'Ottocento. Allora perché aspettare così a lungo, quasi 20 anni, per la pubblicazione di un libro tanto atteso da andare esaurito al primo giorno della sua pubblicazione. Da un lato Darwin è uno scrittore meticoloso, quasi incontentabile, desideroso quindi di sostenere i suoi convincimenti scientifici con il maggior numero di prove empiriche o di osservazioni. Dall'altro Darwin è consapevole, quasi timoroso, delle critiche che la pubblicazione del libro avrebbe suscitato soprattutto negli ambienti ecclesiastici per il fatto che Darwin toglie la centralità del divino creatore nella creazione di tutti gli organismi viventi, uomo compreso. Critiche di cui Darwin fa esperienza quotidiana nei rapporti domestici con la devotissima moglie Emma. La grandezza dell'opera darwiniana consiste nel fatto che l'impianto fondamentale della teoria ha resistito per oltre 160 anni e le nuove evidenze della biologia non hanno fatto altro che confermare l'intuizione darwiniana. Sul piano letterario, sebbene il libro possa apparire a tratti pesanti, nel finale Darwin ci regala una conclusione poetica, inaspettata per un saggio scientifico. E mentre il pianeta continuava a girare sulla propria orbita, da un inizio così semplice, infinite forme bellissime si sono evolute e si stanno ancora evolvendo. Buona lettura.